Ragazzi, sali cari, benvenuti ad un nuovo video sul mio canale. Oggi siamo qui insieme per portare l'ennesimo showcase. Lo so ragazzi, magari vorreste uccidermi. Stavo anche preparando un video a tema My Hero Academia. Un video a tema, soprattutto a tema Sly Cooper per portare la lore, Ratchet & Clank, Jack & Dexter, quei tre sicuramente verranno lavorati su questo canale. Non uscirà Outlast questa settimana. C'ho talmente tanti progetti che veramente ho pochissimo tempo per realizzarli e i copioni sono tipo immensi. I video durano tantissimo, come avete visto un po' per quello di Xenoverse 2. Comunque, oggi siamo qui per provare queste due mod, ovvero Golden Metal Cooler, che è il migliore che ho visto finora all'interno di Xenoverse Mods. Raga, non mi chiedete mai la mod di qua e della... stanno tutte sul sito, cercatele lì, basta. E poi abbiamo Xenogogeta Super Saiyan 4. Attenzione, se qui in mezzo c'è un modder abbastanza buono, mi servirebbe una mano per delle cose, insomma. Magari mi scrive su Discord, faccio qua un appello sui video perché gli showcase sono visti anche da molti modder, e che poi, insomma, con quale parlo anche in privato. Se ci sono dei modder, ragazzi, disponibili, scrivetemi perché devo parlarvi di un progetto, insomma. Poi avete capito, mi prendo proprio la briga di fare l'annuncio qui. Comunque, iniziamo con Golden Metal Cooler e becchiamoci un bel giro incontro, va. Ovviamente stanza dello spirito e del tempo. Eccocelo qua, il nostro Golden Metal Cooler. Mamma, ragazzi, Heroes tira fuori certe tamarrate, ve giuro. Ve giuro. Iniziamo col Moveset, che è praticamente quello di Cooler, giustamente. Però, io onestamente l'ho portata questa per il modello, anche questo qui. Anche perché Cooler cosa dovrebbe avere se non il suo stesso Moveset è giustissimo così, raga. Eccola la presa, quant'è bella sta presa, raga. Io vado matto per quella presa. Abbiamo Schianto Simulato, questa me la ricordo. Ci sta come mossa, a me piace molto. Il colpo del dito folle, ovviamente. Cooler, comunque cosa pensate che possa avere? O comunque il fratello di Freezer. Abbiamo il raggio distruttivo, che era quello dagli occhi. Bene, mi sono ricordato abbastanza bene. La carica massima, bella la Golden Aura. A me la Golden Aura è sempre piaciuta un sacco. E poi abbiamo... Uh, non c'è una seconda skill? Vabbè, ipermovimento come evasiva. La conosciamo. Tra l'altro è anche quella di Metal Cooler. E, infine, Raggio Letale dell'Imperatore, che adesso andiamo a provare. Stavo a fare un attimo il minchione saltellando di qua e di là, raga. Mi diverte troppo su Xenvers. Hmm. I danni li fa giusti, comunque, sia. Adesso, però, vediamo un po' il modello, che alla fine è proprio quello di Cooler. Però c'ha qualche cambiamento. Eh, mi sono anche abituato a vedere quello di Goketer, raga. Adesso non c'ho neanche presente mentalmente quello vanilla. Ma c'ha dei cambiamenti, secondo me, che ci stanno. Anche come sono state piazzate... Ma è uguale proprio a quello dell'anime. L'occhio, voglio vedere come è stato fatto, se è stato reso bene. Eh, l'occhio, raga, è tanta roba, eh. L'occhio è stato fatto veramente molto bene. Complimenti, cavolo. Non me l'aspettavo. Ah, poi mi prendo la briga, intanto che siamo qui, per dirvi anche, cioè, soprattutto, che il caro Dragon Ball Prime Z è stato, come avete visto, nuovamente rimandato. Ma perché, raga? Purtroppo Ori, il modder con cui stavo collaborando, sta male in questo periodo. Sta male e le mod, comunque, non sono poche. Ne mancano ancora un po'. E lui ci avrebbe anche potuto tranquillamente lavorare. Il problema è che, se non può, ovviamente, io non è che gli vado a rompere il cavolo ogni volta. È giusto così, insomma, prima la salute, poi il resto. Anche per questo, onestamente, che cercavo, appunto, un modder. E niente, comunque, abbiamo provato questo Golden Metal Cooler. Veramente molto figo, mi è piaciuto tantissimo. La parte più figa, se ve lo state a chiedere, assolutissimamente quest'occhio. Poi io per Golden Freezer c'ho il debole. Mi mettete anche cooler golden, tanta roba. E andiamo a provare Gogeta adesso. Ovviamente, chi si può prendere contro uno Xenogogeta Super Saiyan 4 è il signor Omega Sharon. Ok, eccoci qua con Xenogogeta. Allora, vediamo un po'. Il moveset. Il moveset è assolutamente quello di Gogeta Super Saiyan 4. Giustamente, quale deve essere. Anche le combo pesanti le proviamo. Eh, vedete perché provo tutto? Tanti mi dicono, eh, ma una volta che hai provato la liscia, cioè la combo quella leggera, che cacchio vai usare quella pesante? Eh, vedete perché? Perché questa è custom. Ha messo insieme, praticamente, l'inizio del Super Saiyan 4 e anche il Super Saiyan Blue. A sto punto io vado a provare anche altre combinazioni, tipo questa, questa, questa. Ah no, questa è rimasta quella di Gogeta Super Saiyan 4. Poi proviamo quella della gomitata. Oh, che cavolo? C'è stava! Mi è piaciuta, però non mi dica che hanno rimosso la capriola, raga, perché è un pochino rosico. No, l'hanno rimossa la capriola. No, no, raga, ma hanno rimosso la capriola di Gogeta. Ci sono rimasto troppo male. Però è bello, comunque, perché c'hai fuso i due Super Saiyan 4. Ah no, eccola, eccola. Scusate, raga, sono un ritardato mentale io. C'è rimasta, c'è rimasta. È vero, devo dar il calcio subito dopo. Mo' sicuramente qualcuno mi stava uccidendo nei commenti. Sono una cifra stanco. Però adesso dobbiamo provare anche le mosse. Abbiamo a fondo del punitore. Quanto mi piace sguscià a sinistra e destra con sta mossa? Non ci avete idea, raga. Troppo divertente. Poi con personaggi come Gogeta ti diverti troppo a giocare. Abbiamo il colpo teppista. E io sto provando la camma per 10. A genius. Comunque, dicevo, abbiamo il colpo teppista, che è il pugnazzo di Veget Blue, raga. Mamma, quanto è figo. L'are colorato strafigo. Voglio vedere un attimo meglio i colori. Eh, cacchio. Forse è meglio che la faccio dall'alto. Però vi giuro, la modalità foto è stata un'aggiunta che probabilmente mancava solo su Xenoverse. Tieee, guarda che sanacca, porco due. E Omega Sharon che... Ti bega lì e poi muore. E io mi sto chiedendo, ma il modder che ha fatto questa mod è italiano? Ma perché, zio, GG, veramente. Ho letto che dove installare anche l'Asura Pack per le aurese. Ho sbagliato qualcosa, probabilmente, perché non me l'ha installata, cacchio. Guarda là. Cioè, è Laura questa qua. Ah, ecco, forse per quello che stiamo vedendo alla trasformazione, ovvero il Kaioken Super Saiyan 4, come è stato nella puntata. No. Non c'è Laura, però. Non capisco. Ho installato il pack di Asura. Spero che non dovevo installare anche quello di Lesibon. Io Lesibon non l'ho installato. Cioè, prima di installare quelle due mod ho cancellato tutto. Anche il revamp pack di Goketer, che poi sicuramente reinstallerò perché avete visto quanta roba giunge, insomma. Non lo so, raga, però Laura, credo che sia stata fatta nel modo più simile possibile a quella della puntata. Non lo so, comunque sì, ah, me scuso per sta mega gaffe. Andiamo ad utilizzare la Guardia Evanescente. Poi abbiamo la Big Bang KMA per cento. Il Castigatore dei Draghi stava sulla, credo che sia la mossa che stava come anteprima della mod. E io adesso voglio provarla, perché abbiamo anche un Drago contro. Castighiamo sto Drago. Porca puttana che fighi i colori. Guarda che spettacolo! Ma dai! Ma non mi dire! Cioè, io riprovo un attimo la presa. Vabbè, quella ci sta che è bangadina, però... La devo riprovare. Ci sono rimasto strabene, raga. Pallone da rugby, becca. Merdoso. Mi piace un sacco sta mod. Poi vabbè, è scontato dire Chromal Debole per i Super Saiyan 4, lo so benissimo. Però mi dispiace, magari, perché non sono riuscito a installare sta cacchio de' Aura. Niente, perché l'ho installato. Sotto c'era scritto, cioè, se installi sta mod di avere c'è anche il pack de' Asura. L'ho installato, mi dispiace che non vada. E niente, raga. Non so che altro div. Io, onestamente, se devo da un parere, ho preferito di più Xenoco Jetta Super Saiyan 4. Per il modello, ok, il modello alla fine è quello, che conosciamo noi, ma dai. Onestamente, il castigatore di Draghi è solo un recolor, però, come è stato recolorato... Cioè, è la prima volta che vengo così tanto preso da una skin che è un recolor. Eh, punto. Da una skin che è un recolor. Poi la trasformazione, anche l'animazione, era carina. Il problema è stato il mio, che sono un demente con l'installer delle Aure. Ma sicuramente, tranquilli, questa sarà una delle mod che finirà tra le top mod del mese. Cercherò di risolvere, insomma, il problema dell'Aura. Mi farò aiutare da qualcuno, anche perché non capisco perché non vada. Niente, detto questo, andiamo a combattere contro Metal Cooler Golden. Facciamo tre volte triangolo. Le tre che mi escono con il triangolo scelgo tra quelle tre. Ok, ara, terra, giocapsula. Futuro in rovina, spazio-terra. Assolutamente il vecchio campo d'allenamento, raga. Che meme che è stata. L'abbiamo distrutto quel campo, tutti gli showcase che abbiamo fatto. Mi sono sempre divertito in quella zona. Ma comunque, adesso, questa. Speriamo che diventerà la tomba di quel Golden Metal Cooler. Vieni qui, dai. Su. Tutte ste sceneggiate. Ah, ti permetti anche le caricate. Capito? Farmato davanti a me. Dai, becca e porta a casa. Non vedo onestamente l'ora anche che esca, raga, sto DLC, perché prima ho rosicato di brutto, vi giuro. Il problema è che quel cacchio di Vegeta Blue mi sembra che ha le stesse identiche skill di un Vegeta Blue normale. Cioè, l'evolution intendo. E sta cosa mi ha un po' infastidito. L'avranno fatto perché sicuramente... No, sicuramente, fidatevi de me, è così. Perché Coribrian non se lo piava nessuno quel DLC. Ma proprio nessuno Coribrian. Mi dispiaceva per Vegeta God. Che comunque, credo, sia una delle trasformazioni più belle su Vegeta il God. Però, raga... Questa è la Bandai. Hanno creato giochi molto scandalosi anche in passato per un DLC. Insomma, io non è che mi indigno, onestamente. Vorrei finirlo con il castigatore di draghi. Anche se non sei un drago. Esplodi, Metal Cooler. Adesso gliela rifaccio per dispetto. Gliela rispamo. Ah, cacchio, è vero. Serve Laura per sta mossa. E ho pensato per un momento che fosse... Eh, che palle. Che fosse un'altra mossa custom. Che è semplicemente un altro recolor del castigatore di draghi, appunto. Cioè, di questa mossa, insomma. Però consuma solamente tre. In quel momento non ci ho pensato tantissimo. Comunque, raga, i capelli mi piacciono troppo. Veramente fatto bene sto Gogeta. Poi, Gogeta sapete tutti quanti che è un debole per tutti. E niente, ragazzi. Il video finisce qui. Io vi ricordo che domani esce un video abbastanza carino, dove ci ho lavorato anche particolarmente tanto. E venerdì spero di portare questo cavolo di Tell2Play, il secondo Tell2Play del canale, dove parleremo appunto di Ratchet & Clank. Lo prenderemo, proprio i primi tre giochi li apriremo. E niente, ragazzi. Spero che questo video vi possa essere piaciuto. Iscrivetevi al canale se ho ancora fatto un ticare della campanella, per non perdere nessuno dei miei prossimi video. Non avevo detto beccatevi l'outro figa, ma lo dico adesso. Noi, come al solito, ci vediamo ad un prossimo video. Plus ultra. Noi, come al solito.